Ciao a tutti, benvenuti a Timeplay ero rimasto che avevo affrontato missione del tour nel monte paradiso e mi era fermato qui quindi proseguo in più avevo appunto cambiato anche l'armatura adeguata per lo zinocra io mi ero sistemato tutto qui quindi posso andare direttamente dalla tipa della gilda eccoci qua, salve e adesso devo battre una vecchia conoscenza della saga, cioè lo zinocra andiamo sempre nel monte appatico ho avuto la resistenza qua cade tutto questi massi bene allora io andrei di qua ciao Calvi ancora stiamo più scatola poi andiamo da di qua poi andiamo da di qua poi andiamo da di qua una ma in una 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 Grazie a tutti. 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 Pronto. Grazie a tutti. Andiamo. Grazie a tutti. Sto steccando eh? Vabbè cosa stecca però non poterò steccare anche a me Sto caz Non come non sei se è tosima eh? Dove vai Zinadre? Stai male? Mi fa muoio muoio piacere che tu stai male perché muoio adesso ti vengo a prendere Eh ma cazzo Eh cazzo Bastardo Grazie E' che aveva anche vuole dei coglioni. Non c'è questa mia carazinagra. E' che sei dai. 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 Oh cazzo. A posto. Alla faccia. Schifoso maledetto. Allora. Vorniamo da capo. Maledetto. Stavolta faccio un giro diverso. Così forse conosco anche la zona nuova. Questa. Ehm. Questa mi pare. Si. L'avevo vista questa. Con i congas. Ehm. Ma l'ha andata in via anche voi. di via. Ehm. 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 e ci va a dormire non è senso E dai che tolgo l'arma Che non è a posto Va a cagare va Dai Eh ma va in mone Fa che è morto Perfetto Ho fatto finire un po' i coglioni Ma cazzo Non vai a cagare Sono fatto Come sa Que rido è morto Oh cazzo Era ora Era ora Devo muovermi ragazzi C'è anche questo da raccogliere Beh Fa un culo Va a sinatra Non morivi più Allora Una corazza Sono su più Altiglio Full man Scorso Scorso Il pello Il cazzo era Altiglio Zanove UN Corazza Ok Sono su Molto grande Full man Fa che cosa Cosa ho raccolto Praticamente un cazzo Allora Perfetto Il secondario Hai voglia Soprattutto a questi livelli Che si ha poca potenza Può essere Una novità Eh magari Qualcuno mi deve parlare Mi dica Mercante Vabbè Spero Espandere l'isola Cioè Ha trovato Un'altra isola Oh Bella Vai Allora Vediamo un po' Alcuni ocetti Che rendere l'isola Più grande Posso aggiungo Non si li ho Fanculo E questo Non posso fare una mazza Signore Allora La ringrazio No Allora Dammi un po' Settamaro Non cazzo So po' Che me ne fa fare Così pochi Fungo Solo uno Allora Faccio il cavolo Vabbè Farò un'altra volta La ringrazio Immaginavo Che era lei Mi dica A se Ma apposta Ci mancherà Vabbè altro Un'altra parte Un'altra parte Un'altra parte Normalmente Sì L'altra parte Va bene Ok allora ragazzi No, sto sbagliando Sì, non so Allora Arena Plus Arena Plus Tetsukabra, e vai Livello accompagnamentato Perfetto, bravissimi ragazzi Arena Plus Arena Plus Sì, se non ci sono compagni Ok Sì, lo so Ma mi è venuto a mente una cosa Ah, ok Gogoline L'emozione Ok Eh E qua E qua What Riserve Quindi Come sarebbe a dire Da inserire o rimuovere Non sto capendo niente Ragazzi Ah L'ho messo qua Quindi Riserve Non ho messo a capire Non ho messo a capire Che cosa si intende C'è Boh Vabbè Controllerò successivamente Bene Ragazzi Questa è un po' è finito qui E ci siamo al prossimo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti